oh lori c'è un figurino troppo stanco c'è una figurina c'è una figurina ti ricordi ieri? mi sono appena svegliato non posso stare già dietro a queste figurine allora vediamo cosa dice no no spero niente iniziamo con la seconda serie cosa succede nella finestra quella è la finestra ma in che senso? eh lo so io cosa succede cosa succede? guarda cosa c'è lì sotto una figurina ok secondo indizio trovato bravo invece nel divano questo sarà di nuovo ancora di mano forse nel cuscino dell'altro no lo so ma sotto il divano sì non mi direi che c'è una figurina c'è una figurina qua del Milan e del Rio no 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 si sta mettendo male io non voglio leggere si sta mettendo male uffa cosa succede nel sottoscala nel sottoscala ma aspetta ah no qui non c'è niente oh no polvoli vediamo cosa c'è nel sottoscala ma cosa c'è nel sottoscala no penso perché io ho troppa paura che si può stare ti prego c'è un presenze magari mi so scaffare troppa paura per terra no vabbè non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo bravo sulla lavagna aspetta aspetta mi aspetta dove la vedo la vedo la vedo la vedo ok c'è un altro figurino la vedo la vedo bravo hai vinto queste figurine guarda qui è pieno di figurine che mi mancano no è una cosa bella allora ma non ci posso credere io mi so che fosse un gioco dell'orrore ma non quanti ce ne sono io mi so che fosse un gioco dell'orrore tutte che mi chiamano sono tutte le mancanti porca di quello ma non ci posso credere porca di quella vacca era stato martin derunna sono tutte quelle che ti mancano era stato martin derunna ma chi sa stanno però e se fosse tornato il fantasma lori no no e però se mi ha dato queste figurine ci sarà un motivo sicuramente il motivo ci dovrà essere sicuramente lori sicuramente ci sarà uno che l'ha nascosto io no tu no lo scopriremo solo domani lori lo scopriremo dobbiamo cercare perché sicuramente è stato qualcuno io me ne vado buono 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 Grazie a tutti